Per esempio i 500 anni Procursi, per questo non mi parlo e non mi piace, non mi pensavo starò in un'influsione continuata noi abbiamo delle risorse di spedizione che potremmo essere utilizzate telecomunicare o telecomunicare telecomunicare visto che le risorse noi abbiamo delle iniziate, ci sono ma le abbiamo organizzate solo del 50% visto che le risorse che servivano a fare l'initazione anche sul piano e visto che troppato in tempo di quasi velocità avendo tanto risorse e ovvio che su quel cammino avrebbe la cosa che ci vuole accettare se dovessi sapere qualcosa c'è la prossima potenza io non credo che poi la differenza la faccio con i 500 euro ma la differenza del mio ma la differenza del mio quindi se le sensualizzazioni non ho messo di ci vuole il minimo è succeduto qualcosa quindi dovremmo utilizzare i risorse in modo che ci siamo nel capitolo e ci siamo nel capitolo e ci siamo nel capitolo e la resistibilizzazione e in particolare lei non ce ne è accorto ma in particolare abbiamo fatto un belissimo il piano del capitolo per evitare ciò che noi abbiamo fatto più di questo è stato praticamente cioè si i cittadini si si stiamo parlando di come i cittadini si chiedono portati in caso dove è il governo e c'è un piano io non credo ma non c'è una cosa 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 ma non c'è un ряд